E' forse una delle più geniali, attraenti ed efficaci campagne di comunicazione sulla raccolta differenziata, quella che è stata presentata questa mattina a Trani, dove dal prossimo 18 novembre partirà la raccolta differenziata porta a porta. Peccato che l'amministrazione comunale con l'azienda municipalizzata per la raccolta rifiuti Amiu abbiano dovuto circoscrivere ad appena quattro strade il nuovo servizio, elemento che, come è facile intuire, potrebbe determinare il fallimento dell'iniziativa. Se ad Andria, dove da oltre un anno è stato avviato il servizio porta a porta in tutta la città, non pochi sono stati i cittadini che, mostrando scarso senso civico, hanno abbandonato rifiuti nelle strade di periferia o si sono addirittura spostati nelle città limitrofe, pur di continuare a conferire rifiuti alla vecchia maniera nel cassonetto stradale, figurarsi l'occasione che viene data ai più indisciplinati di potersi spostare di poche decine di metri e da girare l'obbligo del servizio non è difficile. Insomma, se la campagna di comunicazione è tutta incentrata sulla fine di un rapporto, quello che dura da decenni nei nostri cassonetti tra umido e plastica, alluminio e vetro, secco e carta, la definitiva separazione tra queste tipologie di rifiuti potrebbe essere in realtà molto lontana e travagliata. Una separazione giudiziale più che consensuale. Al contrario di quanto successo ad Andria, dove la comunicazione partì simultaneamente al servizio di raccolta differenziata, a Trani, dal punto di vista comunicativo, tutto sembra essere stato organizzato nella maniera più efficace possibile e per tempo. Oltre alla conferenza stampa di questa mattina, sarà attivato nelle quattro vie interessate dal nuovo servizio, via Atta Selgrado, Corso Cavour, via Aldomoro e lungomare Chiarelli, un infopoint fisso, accompagnato da fissioni e cartellonistica. Se sapessi come fai a fregartene così di me, se potessi farlo anch'io, ogni volta che tu giochi col nostro addio, vorrei che per un giorno solo le parti... Questo spot, coerente con la campagna di comunicazione, sarà programmato solo sui siti internet cittadini, vista la microscopicità del pubblico destinatario della comunicazione. Dal 4 al 16 novembre avverrà la distribuzione di kit, bidoncini e buste e contemporaneamente, personale incaricato di informare i cittadini, seguirà la distribuzione e provvederà alla formazione degli utenti del servizio. Già al 20 dicembre è fissato il primo bilancio della fase di start-up. I risultati, però, vista l'organizzazione a macchietta del servizio, sembrano affidati esclusivamente al buon cuore e al senso civico degli abitanti di via Atta Selgrado, Corso Cavour, via Aldomoro e lungomare Chiarelli della città di Trani.